Quello cos'è? È origano. Me l'ha dato il suo giardiniere. Sei molto popolare. Cerco solo di essere me stesso. Quando provo a essere me stesso non piaccio molto alla gente. Documenti riservati della chiesa sono arrivati alla stampa. Presunta corruzione. Atteggiamenti ambigui del clero. Mi auguro che non sia accaduto niente di grave. Un pastore scappo quando appaiono i lupi. Si stia muovendo in una direzione che io non posso più legittimare. Ho lottato ma ho fallito. Non può rinunciare a essere papa. Se lo fa danneggerà il papato per sempre. Non posso sedere sulla cattedra di San Pietro. E si sbaglia, si sbaglia. Silenzio! Non posso più interpretare questo ruolo. C'è un detto. Dio corregge un papa dando al mondo un altro papa. Voglio ammirare la sua opera. Le riforme necessitano di un politico. La caratteristica più importante di qualsiasi capo è non voler essere un capo. Non è a me che deve dare spiegazioni. Ma a circa un miliardo duecento milioni di fedeli. Sai quello giusto. La chiesa deve cambiare, lo farà con te. Non posso, no, non posso farlo. Le porte si sono chiuse e rimarranno così fino al balcone lassù. In natura nulla è statico e neanche Dio. Come lo troveremmo se fosse sempre in movimento? Lungo il tragitto? Ah sì, così forse incontreremo Dio. Lungo il tragitto, così te lo presento. Ma non ti dimenticare che tu non sei Dio, tu sei umano.